Ciao a tutti amici e amiche del Tagoman, questo è un video interattivo che diversi di voi mi hanno chiesto, è un video dedicato all'amore, alla vita sentimentale, alla vita amorosa, ma è incentrato sui single, quindi come avete visto dal titolo di questo interattivo, vedremo se nel giro di 3 mesi ci saranno delle novità in termini di vita sentimentale amorosa per voi single. Essendo un video interattivo dovete scegliere una fra queste 3 varianti, la variante 1 dell'evidenziatore rosa, la variante 2 dell'evidenziatore blu o azzurro, la variante 3 dell'evidenziatore arancione, quindi fate la vostra scelta, variante 1 rosa, 2 blu, 3 arancione e partiamo subito con la variante 1 rosa. Eccoci qui, prima di tutto andiamo a capire attraverso le carte da che situazione provenite, quindi diciamo andiamo a vedere da quale tipo di situazione, stati d'animo è arrivati, quindi diciamo è un passato più o meno recente. Abbiamo capito che attualmente siete single, ma vediamo il vostro passato, come è stato, attraverso due carte che sarebbero le carte dello smazzo. Vediamo per la variante rosa come è stato il passato in termini sentimentali amoroso. Vado a spezzare il mazzo, abbiamo il 10 di coppe e il cavaliere di coppe. Beh, diciamo che tanta roba è stato il vostro passato più o meno recente, ovviamente qui ci sono varie interpretazioni che si possono dare alle carte. Prima di tutto abbiamo due carte di coppe, quindi qui già le coppe collegato all'elemento acqua e indice comunque sia che almeno siete partiti con uno sprint dal punto di vista emotivo. Sicuramente sia voi che l'altra persona vi amavate, vi amavate a vicenda. Qui, allora, o avevate una famiglia, oppure avevate progettato di farli insieme una famiglia, potrebbe esserci anche di mezzo un matrimonio o una convivenza dei figli vostri o del vostro partner, ex partner. Comunque sia, qui c'era un'unione felice, un'unione con questo cavaliere di coppe basato proprio sul romanticismo, sull'amorevolezza, su uno scambio reciproco da avere. C'era anche molto dialogo e molta comunicazione. C'era comunque felicità. Cioè qui, ovviamente, qua dovete capire la situazione personale. È una variante, questa non potrà valere per tutti. Quindi, se per caso non vi ritrovate con le mie parole, lasciate correre il messaggio oppure sentite le stese successive. Ok? Quindi, qua le cose sicuramente, almeno in passato, ripeto, poi in un recente, andavano bene. C'era comunque un'unione. Ok? Ma vediamo ora, nel giro dei prossimi tre, massimo quattro mesi, quali sono le novità per voi single. da puntista sentimentale. Ovviamente vediamo se ci sono delle novità in campo sentimentale. Vado a pescare tre carte. Vediamo, eh. Vediamo per voi single, per la variante rosa, se ci sono delle novità. Allora, prima carta, seconda carta e terza carta. Abbiamo il 5 di bastoni, il 3 di denari e il 6 di spade. Allora, vi dico subito che l'affacciarsi di un uomo o una donna, potenzialmente dei segni di terra, toro, vergine capricornio, che abbia l'ascendente in uno di questi segni, potrà esserci. Perché la carta centrale è proprio questo, re di denari. potrebbe essere un uomo o una donna che incontrerete sul luogo di lavoro, oppure un uomo o una donna che hanno incarichi dirigenziali, manageriali, informatici, vedete giacca e cravatta, poi dipende. Comunque persone che si vestono anche in un certo modo, anche abbastanza comunque eleganti, eleganti magari sia dal puntista lavorativo, ma anche quando escono con le altre persone. Quindi potreste anche riconoscere questa persona non solo dai segni che vi ho detto, ma anche dalla postura, anche da una certa, diciamo, sicurezza, ok? Una persona che magari sta anche bene dal puntista economico, perché no? Le cose che mi preoccupano un po' sono il 5 di bastoni e il 6 di spade. L'incontro può anche esserci con questa persona, però non può essere un incontro della vita, potrebbe essere un incontro di passaggio, anche perché voi e quest'altra persona cozzate, entrerete magari non da subito, ma poco dopo entrerete in divergenza, litigherete, entrerete comunque in conflittualità, vedete questi due cavalli che sono un po' litigando, ok? E abbiamo il 6 di spade, cioè qua potrebbe esserci la nascita sì di una conoscenza, ma nulla di che non è un qualcosa che si potrà trasformare in amore, non è qualcosa di duraturo, anche perché non vedo amore, vedo solamente qualcosa proprio di conflittuale. E il 6 di spade è la carta che mi dice questa storia durerà ben poco, perché sicuramente voi, soprattutto voi secondo me, vorrete lasciare l'altra persona fin da subito, perché diciamo che potrebbe anche entrare nella vostra vita in maniera un po' turbolenta e magari siete stati bene con una persona in passato, poi è successo qualche successo, non volete ripetere gli stessi errori, volete proprio calma piatta all'orizzonte. Probabilmente neanche voi siete pronti al 100% a intraprendere una nuova frequentazione o una nuova storia. Qua con Reddenari potrebbe esserci benvenga una conoscenza, un qualcosa di passaggio, ma sicuramente sarà una situazione di poco conto, una situazione che dalle a breve, nel giro di magari poche settimane, è destinata poi a essere troncata. Quindi le carte qua sono proprio chiarissime per la variante numero 1. Proseguiamo con gli amici e amiche della variante numero 2, blu-azzurra. Anche per voi abbiamo capito la vostra situazione di partenza, siete single, vediamo prima di conoscere il vostro destino sentimentale da qui a massimo 3 mesi, vediamo come è stato il vostro passato amoroso più o meno recente. Ovviamente è una variante che non può valere per tutti, nel caso non vi trovate lasciate il cuore o comunque sia vi sonate le altre due varianti. Vediamo un attimino come è stato la puntista sentimentale amoroso per la variante blu-azzurra. Vado a spezzare in mazzo e saranno quelle le due carte che analizzerò. Abbiamo la regina di coppe vicino al 6 di coppe. Ok. Ma allora, il sentore che ho è questo. Alcuni di voi magari della variante numero 2, blu o azzurra, erano comunque innamorati dell'altra persona, però secondo me non avete vissuto proprio a pieno la relazione con la persona del passato perché fondamentalmente stavate pensando o eravate ancora proiettati ad un'altra relazione ancora più passata di questa. Perché mi esce proprio il 6 di coppe. La nostalgia del passato, i ricordi del passato. Quindi probabilmente volevate frequentare una persona, uomo o donna che sia, ma fondamentalmente non eravate ancora pronti perché mentalmente o dal punto di vista proprio fisico non avevate ancora chiuso una relazione ancora più vecchia rispetto a questa che appunto stanno vedendo le carte. Quindi qua proprio il messaggio è chiaro. Ok. Ora, siete single? Vediamo da qui a massimo 3-4 mesi se c'è la possibilità di un incontro e come andrà a finire. Vediamo per la variante 2, blu o azzurra. Per voi single se ci sarà la possibilità di un incontro amoroso, un campo quindi sentimentale. Nei prossimi 3, massimo massimo 4 mesi. Vado a pescare 3 carte. Prima carta, seconda carta, terza carta. Vediamo. Abbiamo il 4 di spade, il 2 di bastoni e il 3 di denari. Allora qui fondamentalmente siete ancora un po' un pausa di riflessione, siete ancora un po' letargici, siete ancora un po' apatici e passivi. Quindi fondamentalmente il primo messaggio che mi viene da dire, da pensare è che non siete ancora pronti per approcciarvi qualcosa di nuovo. Voi magari con questo 2 di bastoni avrete la possibilità di scegliere fra 2 o più persone. Ok. Magari creerete anche un qualcosa, però secondo me qui è una creazione non tanto di un amore. È più di una conoscenza, più qualcosa da puntista di amicizia. Anche perché non sono carte di coppe, non sono carte legate al seme dell'acqua, quindi di sentimenti. Qui prima di tutto dovete capire se è davvero arrivato il momento di trovare una situazione di stabilità, una situazione seria con un'altra persona. Questo è il primo punto. Anche perché il 4 di spade, ripeto, è proprio la passività, anche fare poco e niente per trovare un'altra persona con la quale condividere un qualcosa. Ok. Secondo punto abbiamo questo 2 di bastoni. Il 2 di bastoni potrebbe esserci una scelta da fare, da compiere, però il 2 di bastoni mi può anche dire qual è il sentore di questa carta. Cioè è giusto rimanere in questo stato di passività oppure ampliare i miei orizzonti conoscitivi. Ma questo dipende molto da voi. Dipende anche molto dallo stato d'animo che dovete affrontare durante i prossimi mesi. Poi con questo 3 denari si potrebbe creare un qualcosa, una forma di coesione. Però secondo me qui è un qualcosa più legato a un'amicizia, non tanto a qualcosa di sentimentale. C'è il contatto, qua potreste avere anche a che fare con più persone, quindi magari potreste uscire con 2-3 persone, magari anche, non dico in contemporanea però, una sera con uno, una sera con un altro, eccetera però poi fondamentalmente non riuscirete a creare qualcosa di forte con uno di queste persone. Ok? Dovete anche un po' cambiare visione e anche proprio modalità di approccio con le altre persone. Ma fondamentalmente adesso, come adesso, molti di voi non sono ancora pronti. Non sono ancora pronti a affrontare quel passaggio. Ok? Quella, diciamo, nuova forza, nuova grinta per ritornare proprio ad essere davvero innamorati o proprio ad amare l'altra persona. Poi, che dovrete fare delle scelte, qua non lo metto in nome perché comunque il 2 è sempre una carta di scelta, di decisione. Però dovete capire anche voi, quindi se siete all'ascolto, come muovervi e in questo caso, se è davvero necessario e se è davvero arrivato il momento di muovervi, approcciarvi a novità in campo sentimentale. Ma proseguiamo con la variante numero 3, arancione. Anche per voi, abbiamo capito la situazione presente, siete single, ma prima di capire cosa succederà da qui a massimo 3-4 mesi, vediamo un attimino che cosa avete passato durante le settimane, mesi o gli anni precedenti da puntista sentimentale. Quindi vediamo una proiezione del vostro passato sentimentale. Quindi vediamo variante arancione numero 3. Utilizzerò le carte dello smazzo. Allora, abbiamo il 9 di spade e il 9 di bastoni. Allora, qui sicuramente non avete vissuto un passato da puntista sentimentale armonioso. Allora, o eravate single, lo siete sempre stati, oppure qui con l'altra persona di sicuro non c'era quel feeling, non c'era quell'intesa, anzi, con questo 9 di spade c'erano più pianti che sorrisi. C'era anche proprio paura di esporsi con l'altra persona, anche un po' una sorta di paranoia, non dormivate di notte, facevate anche degli incubi perché avevate paura di quello che potesse fare o pensare di voi l'altra persona. Eravate proprio anche un po' angosciati quando stavate con l'altra persona. E infatti il nome di bastoni è come se voi, sì, uscivate con l'altra persona, stavate con l'altra persona, ma avevate proprio paura. Vi siete creati proprio una barriera protettiva. Vedete com'è questo bambino? Ha quasi paura di esporsi, ha quasi paura proprio di provare un sentimento, ma non per colpa vostra, per colpa dell'altra persona che non vi ha mai capiti. Una persona che vi giudicava, una persona che voleva creare proprio anche dei diverbi, dei disaccordi, delle conflittualità con voi. Ed è poi per quello che molti di voi sono giunti al termine di questa storia e adesso attualmente sono molto, cioè sono single. Quindi sono molto, diciamo, come si può dire, iperprotettivi proprio nei vostri confronti. Non volete più star male, non volete più soffrire, come vedete questa carta con questo 9 di spade. Perché nascondervi? Nascondimi poi per colpa dell'altra persona. assolutamente no. Ora vediamo da qui a massimo 3-4 mesi per la variante numero 3 arancione che cosa capiterà. Quindi siete single, vediamo se c'è un nuovo amore all'orizzonte per voi. Quindi variante arancione. Vado a scegliere 3 carte. Prima carta, seconda carta, terza carta. Allora abbiamo il 2 di coppe, l'asso di bastoni e il 6 di bastoni. Finalmente avrete una vittoria, avrete, diciamo, una bella soddisfazione in campo sentimentale. Partiamo con il 2 di coppe. Il 2 di coppe è proprio l'emblema dell'amore, della coppia, della condivisione, della sintonia con l'altra persona. Rispecchiarsi proprio nell'altra persona, negli occhi dell'altra persona. Qua però, oltre alla, diciamo, la sfera sentimentale, la sfera amorosa, abbiamo anche l'asso di bastoni. Quindi l'asso ovviamente è una novità. Ma i bastoni è collegato anche alla passione, al fuoco, al fuoco della passione. Quindi qui ci sarà proprio uno scambio, un misto tra la passione, quindi proprio fare il sesso, fare l'amore con l'altra persona dal punto di vista fisico, e poi invece provare dei forti sentimenti. Quindi si può pensare anche di costruire qualcosa di veramente bello. Poi che sia duraturo, ovviamente ancora un po' prematuro per dirlo, però, questa situazione che incontrerete da qui ai prossimi 3-4 mesi sarà molto, molto bella. Avrete più fiducia in voi stessi e riuscirete a mostrarvi apertamente all'altra persona, a mostrare anche quanto valete, quanto siete belli dentro e fuori, e quindi riuscirete a avere proprio successo in campo sentimentale da qui ai prossimi 3-4 mesi. In bocca al lupo!